Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù e leggiamo la Bibbia insieme. Io sono Nicodemo Fabiano, sono felice di poter essere con te in questo tempo di lettura della parola del Signore. Daniele Il terzo anno del regno di Joachim, re di Giuda. Nabucodonosor, re di Babilonia, marciò contro Gerusalemme e l'assediò. Il Signore gli diede nelle mani Joachim, re di Giuda, e una parte degli arredi della casa di Dio. Nabucodonosor portò gli arredi nel paese di Sinear, nella casa del suo Dio, e le mise nella casa del tesoro del suo Dio. Il re disse ad Aspenaz, capo dei suoi eunuchi, di condurgli dei figli di Israele, di stirpe reale o di famiglie nobili. Dovevano essere ragazzi senza difetti fisici, di bell'aspetto, dotati di ogni saggezza, istruiti e intelligenti, capaci di stare nel palazzo reale per apprendere le scritture e la lingua dei caldei. Il re assegnò loro una razione giornaliera dei cibi della sua tavola e dei vini che egli beveva, e ordinò di istruirli per tre anni, dopo i quali sarebbero passati al servizio del re. Tra di loro c'erano dei figli di Giuda, Daniele, Anania, Misael e Azaria. Daniele prese in cuor suo la decisione di non contaminarsi con i cibi del re e con il vino che il re beveva, e chiese al capo degli eunuchi di non obbligarlo a contaminarsi. Dio fece trovare a Daniele grazie e compassione presso il capo degli eunuchi. Questi disse a Daniele Io temo il re mio signore che ha stabilito quello che dovete mangiare e bere. Se egli vedesse le vostre facce più magre di quelle dei giovani e della vostra stessa età, voi mettereste in pericolo la mia testa presso il re. Allora Daniele disse al maggiordomo, al quale il capo degli eunuchi aveva affidato la cura di Daniele, di Anania, di Misael e di Azaria. Ti prego, metti i tuoi servi alla prova per dieci giorni. Dacci da mangiare legumi e da bere acqua. In seguito confronterai il nostro aspetto con quello dei giovani che mangiano i cibi del re e ti regolerai su ciò che dovrai fare. Il maggiordomo accordò loro quanto domandavano e li mise alla prova per dieci giorni. Alla fine dei dieci giorni, essi avevano miglior aspetto ed erano più prosperosi di tutti i giovani che avevano mangiato i cibi del re. Così il maggiordomo portò via il cibo e il vino che erano loro destinati e diede loro legumi. A questi quattro giovani Dio diede di conoscere e comprendere ogni scrittura e ogni saggezza. Daniele aveva il dono di interpretare ogni specie di visioni e di sogni. Giunto il momento della loro presentazione, il capo degli eunuchi condusse i giovani da Nabucodonosor. Il re parlò con loro, ma fra tutti quei giovani non se ne trovò nessuno che fosse pari a Daniele, Anania, Misael e Azzaria, i quali furono ammessi al servizio del re. Su tutti i punti che richiedevano saggezza e intelletto sui quali il re li interrogasse, li trovava dieci volte superiore a tutti i magi e astrologi che erano in tutto il suo regno. Daniele continuò così fino al primo anno del re Ciro. Capitolo 2 Nel secondo anno del suo regno, Nabucodonosor ebbe dei sogni che turbarono così profondamente il suo spirito da impedirgli di dormire. Il re fece chiamare i magi, gli incantatori, gli indovini e i caldei perché gli spiegassero i suoi sogni. Essi vennero e si presentarono al re. Egli disse loro Ho fatto un sogno e il mio spirito è turbato perché vorrei comprendere il suo significato. Allora i caldei risposero al re in aramaico. O re, possa tu vivere per sempre. Racconta il sogno ai tuoi servi e noi ne daremo l'interpretazione. Il re replicò e disse ai caldei Questa è la mia decisione. Se voi non mi fate conoscere il sogno e la sua interpretazione, sarete fatti a pezzi e le vostre case saranno ridotte in tanti letamai. Se invece mi dite il sogno e la sua interpretazione, riceverete da me doni, ricompense e grandi onori. Ditemi dunque il sogno e la sua interpretazione. Essi risposero una seconda volta e dissero Espunga il re il sogno ai suoi servi e noi ne daremo l'interpretazione. Il re replicò e disse Io mi accorgo che voi volete guadagnare tempo perché avete sentito la decisione che ho preso. Se dunque non mi fate conoscere il sogno, la vostra sorte sarà una sola. Voi vi siete messi d'accordo per darmi delle risposte bugiarde e perverse, aspettando che cambino i tempi. Ditemi dunque il sogno e io saprò che siete in grado di darmene l'interpretazione. I caldei risposero al re e dissero Non c'è uomo sulla terra che possa dire ciò che il re domanda. Così non c'è mai stato re per grande e potente che fosse che abbia domandato una cosa simile a un mago o incantatore o caldeo. Quello che il re chiede è difficile e non c'è nessuno che possa dirlo al re se non gli dei la cui dimora non è fra i mortali. Allora il re si adirò, si infuriò terribilmente e ordinò che tutti i saggi di Babilonia fossero giustiziati. Il decreto fu promulgato e i saggi stavano per essere uccisi e si cercavano Daniele e i suoi compagni per uccidere anche loro. Allora Daniele si rivolse con prudenza e contatto ad Ariok capo delle guardie del re che era uscito per uccidere i saggi di Babilonia. Prese la parola e disse ad Ariok ufficiale del re Perché questo decreto così perentorio da parte del re? Allora Ariok spiegò il motivo a Daniele. Daniele si presentò al re e gli chiese di dargli tempo. Egli avrebbe fatto conoscere al re l'interpretazione del sogno. Allora Daniele andò a casa sua e informò Anania, Misael e Azaria suoi compagni esortandoli a implorare la misericordia del Dio del cielo a proposito di questo segreto affinché Daniele e i suoi compagni non fossero messi a morte con tutti gli altri saggi di Babilonia. Allora il segreto fu rivelato a Daniele in una visione notturna ed egli benedisse il Dio del cielo dicendo si ha benedetto eternamente il nome di Dio perché a Lui appartengono la saggezza e la forza. Egli alterna i tempi e le stagioni depone i re e li innalza dà la saggezza ai saggi e il sapere agli intelligenti e gli svela le cose profonde e nascoste conosce ciò che è nelle tenebre e la luce abita con Lui. O Dio dei miei padri io ti lodo e ti ringrazio perché mi hai dato saggezza e forza e mi hai fatto conoscere quello che ti abbiamo domandato rivelandoci il segreto che il re vuol conoscere. Daniele si recò quindi da Ariok a cui il re aveva affidato l'incarico di far morire i saggi di Babilonia e gli disse non far morire i saggi di Babilonia conducimi dal re e io gli darò l'interpretazione. Allora Ariok si affrettò a introdurre Daniele davanti al re e gli disse ho trovato un uomo tra i giudei deportati che darà al re l'interpretazione. Il re disse a Daniele detto Baltazar sei capace di farmi conoscere il sogno che ho fatto e la sua interpretazione? Daniele rispose al re il segreto che il re domanda né saggi né incantatori né magi né astrologi possono svelarlo al re ma c'è un dio nel cielo che rivela i misteri ed egli ha fatto conoscere al re Nabucodonosor quello che deve avvenire negli ultimi giorni. Ecco dunque quali erano il tuo sogno e le visioni della tua mente quando eri a letto. i tuoi pensieri o re quando eri a letto si riferivano a quello che deve avvenire da ora in avanti colui che rivela i misteri che ha fatto conoscere quello che avverrà. Quanto a me questo segreto mi è stato rivelato non perché la mia saggezza sia superiore a quella di tutti gli altri viventi ma perché io possa dare l'interpretazione al re e tu possa conoscere i pensieri del tuo cuore. Tuo re guardavi ed ecco una grande statua questa statua immensa ed uno splendore straordinario si ergeva davanti a te e il suo aspetto era terribile. La testa di questa statua era d'oro puro il suo petto e le sue braccia erano d'argento il suo ventre e le sue cosce di bronzo le sue gambe di ferro i suoi piedi in parte di ferro e in parte d'argilla. Mentre guardavi una pietra si staccò ma non spinta da una mano e colpì i piedi di ferro e d'argilla della statua e li frantumò. Allora si frantumarono anche il ferro l'argilla il bronzo l'argento e l'oro e divennero come la pula sulle aie d'estate. Il vento riportò via e non se ne trovò più traccia ma la pietra che aveva colpito la statua diventò un grande monte che riempì tutta la terra. Questo è il sogno. Ora ne daremo l'interpretazione al re. Tu o re sei il re dei re a cui il Dio del cielo ha dato il regno la potenza la forza e la gloria e ha messo nelle tue mani tutti i luoghi in cui abitano gli uomini le bestie della campagna gli uccelli del cielo e ti ha fatto dominare sopra tutti loro. La testa d'oro sei tu. Dopo di te sorgerà un altro regno inferiore al tuo poi un terzo regno di bronzo che dominerà sulla terra poi vi sarà un quarto regno forte come il ferro poiché come il ferro spezza e abbatte ogni cosa così pari al ferro che tutto frantuma esso spezzerà ogni cosa come i piedi e le dita in parte d'argilla da vasaio e in parte di ferro che tu hai visto così sarà diviso quel regno ma vi sarà in esso qualcosa della consistenza del ferro poiché tu hai visto il ferro mescolato con la fragile argilla come le dita dei piedi erano in parte di ferro e in parte d'argilla così quel regno sarà in parte forte e in parte fragile hai visto il ferro mescolato con la molle argilla perché quelli si mescoleranno mediante matrimonio ma non si uniranno l'uno all'altro così come il ferro non si amalgama con l'argilla al tempo di questi re il dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto e che non cadrà sotto il dominio d'un altro popolo spezzerà e annienterà tutti quei regni ma esso durerà per sempre proprio come la pietra che hai visto staccarsi dal monte senza intervento umano e spezzare il ferro il bronzo l'argilla l'argento e l'oro il gran dio ha fatto conoscere al re quello che deve avvenire dura in poi il sogno è vero e sicura è la sua interpretazione allora il re Nabucodonosor abbassando la sua faccia fino a terra si inchinò davanti a Daniele e ordinò che gli fossero portati offerte e profumi poi il re parlò a Daniele e disse in verità il vostro Dio è il Dio degli dei il Signore dei Re e il Rivelatore dei Segreti poiché tu hai potuto svelare questo mistero allora il re innalzò Daniele in dignità lo colmò di numerosi e ricchi doni gli diede il comando di tutta la provincia di Babilonia e lo fece capo supremo di tutti i saggi di Babilonia Daniele chiese al re di affidare a Sadrach Mesach e Abednego l'amministrazione della provincia di Babilonia ma Daniele rimase alla corte del re prega per me io pregherò per te e lasciamo la parola riempire il nostro cuore io ti do un forte abbraccio un santo bacio che la parola del Signore rimanga nel tuo cuore nel nome di Gesù della provincia i Grazie a tutti